Un'altra morte per il terzo giorno consecutivo nelle acque del litorale fanese è avvenuta nella tarda serata di ieri in una spiaggia libera nei pressi del camping Fano a Baia Metauro. Una sequenza di decessi collegati al mare senza precedenti per Fano, tre morti in tre giorni. A perdere la vita dopo l'ottantenne in Sassonia ed il Tunisino a Ponte Sasso, Manna Tarcisio, 66 anni ancora da compiere, residente nel comune di Fano, ma nativo di Cartoceto, mentre si trovava in compagnia della sorella poco prima delle 20 di ieri sera. Secondo le prime ricostruzioni, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, probabilmente per seguire la sorella in un bagno serale, si è immerso nelle acque antistanti il camping a pochi metri da riva. Forse per un malore in acqua o forse per altro, sta di fatto che da lì a poco l'uomo è stato riportato a riva dai presenti già in fin di vita. Subito soccorso da due turisti e dalla sorella che hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari del 118, arrivati sul posto il prima possibile, ma con non poche difficoltà, essendo stati indirizzati da chi aveva attivato la chiamata al soccorso verso il camping Metauro. Ma una volta arrivati sul luogo della tragedia si sono resi conto che ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare. A dare soccorso al malcapitato anche i titolari della struttura ricettiva che, per ironia della sorte, dal 26 di giugno non dispongono del servizio di salvataggio in quanto la concessione temporanea concessa dal comune di Fano è scaduta e non è stata rinnovata. L'amministratrice della società proprietaria della struttura che materialmente ha defibrillato l'uomo ieri sera nel tentativo disperato di salvarlo, si dice sconsolata che ha chiesto ripetutamente all'amministrazione di poter avere in concessione quella lingua di spiaggia di 50 metri che gli darebbe così la possibilità di mettere di tasca propria, come avvenuto sino ad ora, un servizio di assistenza ai bagnanti. Ma gli è stato risposto che la spiaggia non è accessibile e che ci sono dei cartelli che avvisano le persone. Ma al momento le amministrazioni dicono che non è possibile, che non è né quella temporanea né quella diciamo definitiva, non è possibile proprio individuare una concessione dei maniali perché questa spiaggia non è fruibile. Al di là di ciò che sulla carta viene riportato si riempie sempre e soprattutto di persone che con il mare non hanno una grande dimestichezza, milanesi, torinesi, perugini o anche frequentatori esterni che amano questo pezzo di costa, proprio come l'uomo e la sorella di ieri sera, soccorsi da lei stessa. Siamo intervenuti, sono intervenuta io personalmente, purtroppo era troppo tardi. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati anche gli uomini della capineria di Porto ed una pattuglia dei carabinieri di Fano.